Chi è che conosce la legge di Murphy? Per chi non la conoscesse è un insieme di paradossi pseudoscientifici ai limiti della caricatura. Si può riassumere in una frase Se qualcosa può andar storto, di sicuro ci andrà. Ed è una cosa che, declinata nella vita di tutti i giorni, ci faceva morire dalle risate. Perché mi faceva scivolare sulla buccia di banana, perché il ketchup macchiava sempre chi aveva messo il vestito nuovo e perché all'uscita del parrucchiere ti cagava in testa il piccione. Un cecchino. Adesso però, che questa cosa ha colpito tutto il mondo, non fa ridere più. E così, come tutti quanti voi, mi sono ritrovato fermo a casa per più di 50 giorni con un cetriolo nel culo. Sigla. Ma ho un difetto enorme. Sono un inguaribile romantico, vivo di entusiasmi e non riesco a dare la colpa a nessuno per quello che succede. E per citare William Baruz, uno scrittore che amo particolarmente, non fosse altro perché è stato un esponente di spicco della Beat Generation, un uomo può fallire mille volte, ma non diventa mai un fallimento finché non inizia a dare la colpa a qualcuno, a qualcosa per quello che succede. Nonostante questo, però, anche io ho passato i miei bei 4-5 giorni a sentirmi uno sfigato. Perché c'è il mutuo, perché ho provato la cassa integrazione, e tutto quanto è stato amplificato dalla solitudine. E così i primi 4-5 giorni non ho fatto altro che sbronzarmi. Questo ho fatto. Ma ho avuto anche il tempo per riordinare tutto quello che ho fatto nella vita, per chiedermi veramente chi sono, capire quali sono le mie reali competenze e decidere che cosa voglio fare da grande. Vabbè, ormai per onestà dovrei dire da vecchio. E qui è nato proprio l'altro problema. Perché dopo 25 anni di lavoro, ma che cazzo vado a fare più alla mia età? Dove mi ricolloco? E poi, come sempre, mi sono venuti in soccorso i libri che ho letto. E proprio un paio di anni fa mi ho rinnamorato di uno scrittore israeliano, si chiama Yuval Noah Harari, che con il suo primo libro, Da uomini a dei, ha fatto un riassunto dell'evoluzione dell'uomo negli ultimi 70.000 anni, evolvendosi quasi in una divinità, al punto da condizionare completamente tutto quanto il mondo circostante. E questo libro mi aveva lasciato con una domanda che vi voglio leggere testualmente. È breve. Opla. Può esserci qualcosa di più pericoloso di una massa di idee insoddisfatti e irresponsabili che non sanno neppure che cosa vogliono? E ora, con tutto questo tempo a disposizione e 50 euro di buoni Amazon che mi erano rimasti, ho deciso di dare una risposta a questa domanda di Harari, acquistando il suo secondo libro, Omo Deus. Solo che, così, tutte le mie paure sono diventate realtà. Perché, secondo Harari, l'avvento della tecnologia distruggerà completamente l'umanesimo con tutti quanti i suoi valori. Bypassando, però, tutta quanta la teoria filosofica e antropocentrista, secondo cui l'uomo per evolversi ancora tenderà solo ed esclusivamente all'immortalità, quello che fa paura è la tenuta dell'assetto sociale e della democrazia, perché ad essere attaccato principalmente è il lavoro. Così, la rivoluzione tecnologica che è guidata oggi dalla Silicon Valley sta creando una classe dominante molto piccola alla quale stiamo consegnando spontaneamente da 20 anni tutti quanti i nostri dati e oggi invece ci lamentiamo dell'app Immuni. E dall'altra parte invece è una classe molto più ampia di persone che Harari chiama inutili, semplicemente perché siamo sostituibili dall'operatività degli algoritmi e dei big data. Praticamente stiamo diventando quel popolo degli abissi di cui Jack London ci parlava già nei primi anni del Novecento. Jack London? Quello di Zanna Bianca? Poi è spiegabile come ogni volta che parli Harari demolisce completamente proprio gli esponenti di questa rivoluzione tecnologica e loro invece se lo coccolano. Basti pensare a Zuckerberg che lo ha eletto fra i suoi dieci scrittori preferiti e Bill Gates che ne consiglia la sua lettura ogni mattina. Fatto è però che la sua visione detaista e distopica del futuro mi ha fatto riflettere molto, forse pure troppo, perché il lavoro è cambiato e continuerà a cambiare forse in maniera irreparabile. Ed è per questo che ho deciso di non essere più il piano di nessun altro. E parto da qui, elaborando tutto quello che ho studiato e i centinaia di libri che ho letto nella vita, senza nessun tipo di presunzione, senza nessun dottorato, senza voler vendere nessun corso, ma soprattutto senza nessun segreto di Fatima. Ci butto dentro in questo canale soltanto tutto quello che sono, una sorta di grande fratello, ma quello di Orwell. Apro perciò questo canale YouTube, apro una pagina Facebook e una pagina Instagram e vedremo insieme come funzionano. Senza i consigli di chi non è nessuno, ma che a tutti i costi ti deve vendere un corso di social media marketing, e senza neppure l'esperienza di chi invece c'è già dentro da 10 o 15 anni. Ora, se vi interessa, di sicuro mi vedrete fare qualche puttanata, e probabilmente anche più di una, ma così ve la risparmio e potete evitare di farla voi. Ma soprattutto, se volete seguirmi, sappiate che io non conosco la strada, ma insieme la troviamo. Ciao!